Siamo arrivati a tutti i giorni Alba l'ha presa nel 2010 ottobre e l'ha persa nel 200 il 2 novembre dell'anno, 1944. Anche la disperazione pone dei doveri e l'infelicità può essere prezzosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata. Geniale, direttante, selvaggio, parata, ragioni personali, una questione privata, ragioni personali, facoltà, di non sentire la pessimità, di non guardare nel senso della logica i fatti di opinione e raccomandazioni. E per essere attenti, per essere il padre, la mia piccola patria, dietro la mia gloria, la cosa scelta di sì la parte. E per essere il padre, la mia piccola patria, la mia piccola patria, la mia gloria, la cosa scelta di sì la parte. Ma scelta di sì la parte, dietro la mia gloria, la cosa scelta di sì la parte. E per essere il padre, la mia piccola patria, la mia gloria, la mia gloria, la mia gloria, la cosa scelta di sì la parte. Ma cara, di sì la parte. Ma cara, di sì la parte. Grazie a tutti.